L'obiettivo è capire quali sono gli spostamenti di traffico sull'asse, chiamiamola Rovereto Trento, in un'ottica di lavori in corso che ci sono su quest'asse, ma anche in un'ottica di infrastrutture future che i territori devono pensare e anche per sgravare un po' la statale e la strategia che indubbiamente ha le sue problematiche in questa fase. Questo è un intervento molto richiesto da tanti anni dal territorio e soprattutto sull'asse Rovereto Trento, su questa parte dell'asse autostradale. Noi l'abbiamo allargato da Rovereto Sud fino a Trento Nord, in una fase sperimentale che durerà circa due anni e servirà anche a capire la mole di traffico che passa ogni giorno tra Rovereto e la città di Trento. Ci sono lavori che sono in corso, pensiamo a Campo Trentino, pensiamo al depuratore a Besenello, pensiamo ai progetti che ci sono sui Spini, la variante di Spini e il ponte di Ravina, ma servirà anche a capire la necessità di opere infrastrutturali su Rovereto e l'Alta Vallagarina. Il tema del traffico su Rovereto città sicuramente va valutato e quindi va valutato l'impatto di questa iniziativa su questo e anche il tema dell'Alta Vallagarina, Volano, Besenello e Caliano.